Sono 115 le opere strategiche che la Regione ha inserito in cantiere toscana. Un pacchetto di interventi proposto all'Agenzia per la coesione territoriale al fine di ottenere un finanziamento complessivo di 110 milioni e 900 mila euro attinti dalle risorse del Fondo di sviluppo e coesione. È stata una battaglia un po' nella conferenza Stato-Regioni per avere risorse che avviassero il mondo delle committenze e degli appalti proprio nella logica dello sviluppo. Un recovery fund in piccolo da un punto di vista dei cantieri che possono essere attivati dalla Regione. I progetti interessano tutte le province della Toscana e riguardano la difesa del suolo, l'edilizia residenziale pubblica, aiuti alle imprese che fanno ricerca e sviluppo, una piattaforma logistica e digitale per la vendita online dei prodotti agroalimentari toscani, ma soprattutto l'edilizia scolastica, il pacchetto più consistente. Non con tante nuove scuole, ce ne sono anche altri interventi di allargamento, ma soprattutto sono manutenzioni da un punto di vista del rispetto delle leggi sismiche, da un punto di vista dell'efficientamento energetico, progetti che i comuni avevano presentato e facevano parte di una graduatoria che era però senza finanziamenti e che invece con queste risorse vedrà partire 33 progetti presentati dai comuni. I progetti sono tutti immediatamente cantierabili. La Giunta regionale si è infatti assunta l'impegno di pubblicare entro tre mesi dall'assegnazione delle risorse il relativo bando.